sabato 25 marzo alle ore 14 e 30 di major e gli amici del monumentale vi aspettano per celebrare il centocinquantesimo anniversario della nascita del maestro arturo toscanini per una passeggiata in musica che parte dalla sua edicola e passa a salutare personaggi a lui legati come errigo boite enrico polo ernesto cavallini e molti altri saranno con noi i musicisti di major al violino alessandro di giacomo un fan prodigio e primo violino della osca e salvatore cocciro clarinettista di grande sensibilità il presidente degli amici del monumentale carla de bernardi illustrerà il percorso con cenni storici ed aneddoti il tutto live streaming sulla pagina di di major viviamo nei letti calici per celebrare il maestro arturo toscanini di major fatta dai soci per i social di major punto tv